ciao ragazzi oggi la rosa non c'è la strega strega via guarda che sei strega allora i ragazzi mi li porto via no dacci quello e voi e la caffa dacci quello e voi zecco mi ha portato la caffa mi ha portato la caffa è tutto scusate ciao ciao eccomi scusate cosa abbiamo qua è una signora con la faccia brutta e il naso troppo lungo ci ha portato sta roba sono dolcetti di pj max valkor con sorpresa valkor 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 che comincia io una volta vai simone cosa c'è e fai vedere cosa c'è questa qua è plastilina dai la c'è marshmallow oh marshmallow di gufetta che schifo come e poi marshmallow come si chiama e poi e poi le pelline le premo dopo e poi i lemoni c'è anche gufetta dopo le apriamo intanto lasciare lì e vediamo nel mio cosa c'è cat boy cat boy è un gatto scusatemi non sei inglese e sta roba non si apre non la sai aprire aaaah vediamo la sorpresa la sorpresa caramello italiano ah 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 si ma tu hai già aperto il tuo eh caramello maschamello 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 e orsamello dov'è? maschamello è plastalana uh c'è la plastilina un'altra plastilina questa è verde e no ma questa è mia e l'altra è tua no erano cambiati vediamo io che cos'ho mamma mi si è spezzato una gamba guarda lì e allora lascialo stare oh no i marshmallow bianchi guarda è mio soldi ho pagato le caramelle ho pagato io il marshmallow pipponello ovviamente cioccolata e poi ecco dammi i soldi plastilina verde vedi che è verde sono tutte mischiate non è che non c'è quella cosa eh no sono uscite due verdi tu è quella verde e tu quella blu no io quella blu è perchè già si è preso da lui imbrogliate abbiamo scappiato cosa ci rimane da fare vediamo se lo sapete è avere queste baballine baballine una alla volta baballine una alla volta soldini vediamo non c'è niente altro ah beh le mangio io se non li vuoi eh no è pieno di scotch no è che mi sono incollato lo scotch baballine non c'è niente no ma cosa dici qua soldini sono tutti i miei soldini se non li volete grazie no ehi 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 io ne ho due cambi cambi io ne ho tre dammi dammi guardate guarda facciamo così dammi dammi io ho due soldini che dici cominciamo a mangiare? io ho tre si allora noi vi auguriamo buona epifania quindi buona festa della Befana che non mi un bacione ti piacerebbe ciao ciao al prossimo video bambini mettete mi piace ciao 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 ciao